Pesgara per la legalità è stata inaugurata oggi pomeriggio l'iniziativa promossa dalla prefettura di Pescara in sinergia con le forze dell'ordine, le forze armate, con la collaborazione delle associazioni sportive di volontariato, il comune di Pescara e la regione Abruzzo. L'obiettivo è di sensibilizzare i cittadini al tema della prevenzione per la salute e dall'educazione alla legalità. Nel cuore della città, Piazza della Rinascita, sono stati allestiti i tre villaggi tematici, il villaggio della legalità, il villaggio sportivo ed il villaggio della prevenzione della salute, nel quale è possibile effettuare screening, consulti ed esami in via del tutto gratuita grazie alla presenza di varie associazioni ed equip mediche che garantiranno visite di diverse tipologie ai cittadini. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. L'obiettivo principale è quello di portare le istituzioni a diretto contatto con i cittadini. In questo caso sono state messe insieme diversi ambiti, da quello della prevenzione e quello della legalità all'ambito sportivo. Quindi sono molto contento del lavoro che è stato fatto nel tavolo per mettere insieme tutte queste iniziative. Il questore di Pescara, Luigi Liguori. Salute, prevenzione e legalità sono queste le tematiche di queste due giornate alle quali parteciperanno addirittura le fiamme oro della Polizia di Stato. Certamente, salute, prevenzione, legalità e sport. Sono un ex sportivo seppure amatoriale quindi sono particolarmente contento di avere qui la rappresentativa delle fiamme oro. Abbiamo peraltro atleti di primissimo livello, abbiamo il nostro Yassin Rashik che ha fatto gare importanti e quindi siamo molto contenti che sia qui con noi. Quanto sono importanti questi eventi per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione, alla cultura della legalità? Sono fondamentali perché lo sport è regole e la regola non va d'accordo con la vita disordinata e neanche col crimine. Quindi avere una vita di sport significa già assicurarsi una vita regolare e quindi in una prospettiva sociale è importantissimo che tutti facciano sport e domani questa competizione agonistica, noi ovviamente faremo anche quella non agonistica non che la passeggiata. Sarà un esempio che tutte le forze di polizia, anche le forze armate e anche la polizia urbana domani daranno a tutta la città. Correremo peraltro insieme quindi è un momento di sport bellissimo e noi siamo particolarmente felici per questo.